Siamo con Alessi, capitano della Cagliarese. Oggi avrà svettato almeno su 30 palloni. Mi sembra che 28 li hai presi, te di testa sei ancora imbattibile. La mia specialità da anni riesco ancora a tenere e a sfruttare le mie qualità. Partita? Secondo me abbiamo fatto molto bene, nel senso che è un campo difficile, hanno lasciato le piume qua a tantissime squadre. Loro sono una squadra ostica, siamo stati veramente bravi. Avevamo un peccato in questo tipo di partita fino ad oggi e sono molto orgoglioso di tutti i miei compagni. Bene, l'ho chiesto già al mister, ma a Cairo quanto la volete questa Serie B? Beh, la vogliamo tanto. Ovviamente ci prepariamo ogni settimana per ogni partita, per cercare di vincere. Noi ci proviamo, come però ci provano in questo campionato altre 5-6 squadre. Combattutissime. Ci proveremo fino alla fine sicuramente. Ok, un bocca al lupo allora. Grazie, grazie.